Il museo non riesce a ospitarle, quindi sono state buttate nell'erba. Si tratta di tre ruote in pietra appartenente a un frantoio risalente al secolo scorso, se non di più, conservato nell'ex comune di San Ferdinando. Chiaramente quelle pietre in oltre 100 anni hanno sopportato tante intemperie e non sarà certo un po' di pioggia a rovinarle, ma questo non vuol dire che possano essere utilizzate come urinatoio per cani o poggia a birra. Quelle ruote sono sostanzialmente un appendice del museo e quindi un pezzo di storia che racconta quali siano i mestieri della tradizione sanferdinandese, lavori che vengono svolti ancora oggi ma con tecnologie diverse. In tanti passano dalle aiuole davanti al museo in piazza Giovanni Paolo II e senza timore salgono sulle ruote, ci poggiano lattine o fanno fare i bisogni ai propri cani come se fossero pezzi di scarto. Per evitare questi gesti, comunque sbagliati indipendentemente dal valore storico, basterebbe dare alla sede museale i giusti spazi per conservare gli oggetti.